Benvenuti nel video di oggi e benvenuti nel vlog di oggi, dove parleremo di un prodotto che mi sono portato dietro da Toronto fino a Stoccolma, fino qui a casa. Ed è un articolo che ho trovato ad essere veramente bello, fondamentale quasi per i travel blogger e anche secondo me per qualche utilizzo in studio. Poi lo vedremo prossimamente con un altro articolo simile, dello stesso tipo, che è arrivato ieri. Quindi se mi seguite sul canale già saprete di cosa sto parlando. Ci sarà anche un confronto con questa i4K Plus, che è la camera che vedremo oggi. E perché ho deciso di realizzare questo video? Intanto per ringraziare Geekmall, che è il sito che mi ha inviato la camera in prova, in test. Li ringrazio perché mi hanno dato un'opportunità veramente incredibile, non solo quella di provare questo prodotto, che non è banale, ma anche quella di provare a inserire del footage realizzato con una camera che ha un'inquadratura, uno stile completamente diverso dalla GH5 che sto utilizzando adesso, nei video che realizzo tutti i giorni. Quindi travel blog, nei vlog, e vi assicuro che questo footage mi è piaciuto particolarmente. Da questa camera non mi sarei mai aspettato così tanto, la qualità d'immagine, la facilità di utilizzo, che comunque vedremo tra poco, devo essere sincero, è notevole, e quasi se non supera GoPro. Questa è grossa, lo so, lo vedremo meglio nei video confronto, però devo dirvelo, perché è veramente bella. Avevo già provato GoPro, poi è arrivata, e quindi in questi giorni la proverò molto di più rispetto che prima. Questa camera però, insomma, mi ha lasciato un bel record, quindi perché non realizzare un video? Tra l'altro sempre con Geekmall c'è un'opportunità importante con questa camera, utilizzando il link che troverete in descrizione con il codice sconto che porta il mio nome, avrete diritto ad una riduzione di prezzo e un buonissimo servizio. Quindi se vi dovesse convincere questo articolo e voleste provarlo, fatelo utilizzando il link in descrizione e poi mi direte. Vi aspetto nella sezione commenti. Dunque io mi sono segnato qui come al solito sotto, voi non lo vedete, c'è tutto un quadernetto con gli appunti e le caratteristiche di questa camera. Io partirei dal prezzo, che alla fine la cosa che più colpisce di questo prodotto è che è realizzato con una fattura veramente incredibile, un design comunque carino, accattivante e delle dimensioni pazzesche, perché è super compatta. Guardate, vi prendo la GoPro un attimo solo, ma parleremo di GoPro e questo prodotto in un altro video, quindi solo un attimo, arrivo. Stava caricando. Questa è la GoPro Hero 6 e questa è la iCam 4K Plus. Come potete vedere è molto compatta, leggermente più piccola, è anche più sottile e come peso vince questa. È un pochino più leggera. L'obiettivo è diverso, completamente diverso. Ok, sto già facendo un confronto, quindi poso la GoPro e ci rivediamo nel vlog che troverete adesso linkato quando sarà online, quindi tra qualche giorno. Datemi il tempo perché è arrivata ieri la GoPro, quindi devo ancora realizzare un po' di video e un po' di foto da paragonare a questa. Ad ogni modo, cosa mi è piaciuto di questo articolo? Il prezzo dicevamo 219€. È un prezzo secondo me interessante per un prodotto di questo tipo che realizza video in 4K a 60 fotogrammi al secondo. Tanta roba. 100 milioni di bit è la risoluzione del video e devo essere sincero in condizioni anche di scarsa luminosità se la cava abbastanza bene. Rumore ce n'è nell'immagine, normale che ci sia, però nel complesso è molto buono il video realizzato con questa camera. Cosa abbiamo anche di particolarmente entusiasmante? La possibilità di realizzare timelapse, che sono quelli che poi ho inserito per lo più in tutti i travel vlog. Ed è notevole avere una camera così piccola, sembra portata di mano, zaino, io l'avevo infilata nel manfrotto, tiravo fuori, montavo il cavalletto, in due minuti avevo già un timelapse di qualche secondo da poter inserire nel mio vlog. La portabilità di questo accessorio è notevole, sia per quanto riguarda l'utilizzo con il cavalletto, grazie anche al supporto a vite del quale è dotata, quindi non richiede il case per poter essere poi installata sui vari supporti, come invece richiede GoPro che non ha niente praticamente, deve essere per forza inglobata nel suo case per essere poi posizionata sui vari accessori, sui vari treppiedi, questa con il supporto a vite è universale, quindi abbiamo un supporto di questo tipo da agganciarci, da avvitarci, lo potremo fare tranquillamente, poi la piazzeremo su un treppiedi, quindi molto molto versatile questo articolo. E poi l'altra cosa notevole è che essendo così piccola e tascabile, la si può mettere proprio in tasca, proprio nella tasca frontale dei pantaloni e realizzare dei video dove in realtà non si potrebbe filmare come l'Apple Store e andiamo a realizzarle in verticale, andiamo a farlo con l'applicazione, semplicissimo e così avremo un footage eccezionale, avremo anche un audio relativamente accettabile, poi lo proveremo tra poco e avremo il ricordo di una situazione dove in realtà non avremmo potuto realizzare alcun video o alcuna foto, con questo articolo invece sì. Che ne dite, facciamo uno switch? Ed eccoci live con la 4K Plus, come vi sembra la qualità d'immagine? Vi lascio un sondaggio con 5 possibilità a 5 stelle, mettete poi qual è secondo voi il punteggio migliore. Secondo me è una buona qualità d'immagine, è considerata la dimensione della camera e anche per quanto riguarda l'audio, diciamo buona, accettabile. L'ho trovato essere buono in condizioni di silenzio, accettabile quando c'è un po' di rumore, quando c'è proprio frastuono, tanto rumore, tanto casino come ad un centro commerciale, non è che renda proprio al massimo, è molto alto, molto acuto e anche se personalizzabile non è certo al pari di microfoni esterni. Però una bella funzionalità di questa camera è quella di potervi connettere tutta una serie di accessori grazie alla porta USB Type-C, che rende la e-cam praticamente universale e compatibile con una marea di dispositivi di accessori come i microfoni esterni, come per esempio connettori AV per l'uscita del video e ovviamente anche per l'energia e quindi per la ricarica. All'interno della confezione ufficiale, oltre alla camera e oltre al case waterproof che viene già fornito con la camera, abbiamo il copre obiettivo in silicone, fondamentale da portare sempre in giro per proteggerne l'obiettivo e soprattutto evitarne i graffi, e poi abbiamo il cavetto di ricarica ultra corto USB. La scatola praticamente racchiude in questo modo con anche la batteria tutti gli accessori che servono per far funzionare meglio la e-cam e per farla anche andare sotto l'acqua. Siamo tornati sulla GH5. Continuiamo il racconto relativo a questa camera che ho trovato essere veramente utile e interessante. Richiede una memoria, una scheda di memoria, un SD particolarmente performante. Adesso ne vedete una che mi permetto di suggerirvi e la troverete in descrizione. È uno dei modelli più economici supportati da questa camera e che è in grado di tenere, di reggere il 4K a 60 fotogrammi al secondo con una definizione importante da 100 milioni di bit. In merito alla batteria, all'interno della confezione, come visto prima, c'è una batteria inclusa che poi è estraibile facilmente tramite lo sportellino. Poi abbiamo la levettina che ci permette, tirando, di estrarre questa batteria mini, veramente mini, dalla durata di circa un'ora e mezza continua di utilizzo. Quindi, che dire, per realizzare timelapse lunghi occorre per forza un power bank esterno per alimentarla, oppure più batterie di ricambio. Per invece realizzare video, foto, brevi, stile action cam, direi che la batteria ha una durata di tutto rispetto. In merito all'interfaccia è veramente ottima, eccezionale ed ho trovato ad essere chiara, pulita, semplice da utilizzare. Permette con un tap di raggiungere tutte le impostazioni, possibili e immaginabili, e con l'altro di andare a scovare tutte le varie funzionalità attivabili, tutte le varie creazioni fattibili con quest'app, come la burst mode, come le foto, come i video, come i video temporizzati, quindi timelapse, oppure gli slow motion, quindi abbiamo veramente tantissime possibilità di utilizzo e sono tutte accessibili da un'interfaccia veramente comoda, semplice da utilizzare. L'altra cosa bella di questa camera è che ha solo un tasto, quindi non ci si può sbagliare, c'è solo il tasto di accensione che poi anche lo shutter, e chi si è tenuto premuto accende o spegne la camera, se è premuto una volta sola, attiva, interrompe la riproduzione video o realizza una foto, quindi è veramente semplice. Nel momento in cui andiamo a creare un contenuto che non sia una foto, e quindi un timelapse, uno slow motion, oppure un video, vedremo accendersi due led, sia quello superiore di rosso, sia quello frontale di blu, e questi due si alterneranno e comunicheranno all'utente che la camera in quel momento stia registrando. Per quanto riguarda invece le caratteristiche esterne di questo prodotto, abbiamo uno schermo da 2.2 pollici retina di ottima risoluzione, si vede veramente bene anche in condizioni di luce particolarmente alta come per esempio contro sole. Abbiamo la possibilità di regolarne la luminosità, e in più abbiamo sulla parte superiore i fori dedicati al microfono, lo sportellino che abbiamo visto prima per l'USB, e in fondo c'è lo sportellino che contiene non solo la batteria ma anche la SD card. All'interno della iCam c'è un chip ad alte prestazioni che si chiama Umbrella HS Sock e permette di realizzare video in altissima risoluzione con un utilizzo incredibilmente minore di fonti energetiche. E quindi rispetto al modello non plus della iCam risulta avere la i4k plus una durata della batteria maggiore. Per il trasferimento di dati abbiamo la possibilità di collegare direttamente la camera al pc e di sfruttare quindi la connessione USB Type-C a 40 Mbps, quindi una velocità di trasferimento buona, accettabile, più che notevole, oppure di andare a prendere la schedina SD e poi attaccarla al nostro computer. La i4k plus è anche dotata di una stabilizzazione interna attivabile solo con la modalità 4k 30 fotogrammi al secondo, quindi il 60 fotogrammi al secondo purtroppo non è stabilizzato internamente, lo potremmo fare solo in post-produzione, mentre le risoluzioni inferiori lo sono e si vede parecchio la differenza quando andiamo a filmare a mano libera e abbiamo la stabilizzazione attiva. Devo dire che il risultato finale è buono. C'è anche la possibilità già in camera di andare a correggere l'effetto fisheye e le parti esterne sono meno distorte e soprattutto il video è croppato e quindi sembra quasi un'inquadratura grandangolare ma realizzata con una camera che non sia con un obiettivo fisheye. Con la iCam potremmo anche realizzare foto in RAW e quindi avremo tutta la possibilità di andarci poi a gestire con i programmi esterni come Adobe Lightroom le varie impostazioni della nostra foto per cercare di estrarre il meglio dal nostro scatto e lo potremmo fare quindi anche con un prodotto veramente incredibilmente piccolo e inoltre avremo anche la possibilità di realizzare queste foto così come i video con i comandi vocali quindi potremo parlare alla nostra camera ci chiederà prima di registrare la nostra voce per riuscirla poi a riconoscere e avremo una serie di comandi che potremo dire e la camera agirà per conto nostro senza dover cliccare nulla toccare nulla sullo schermo sul display. I ha anche realizzato un'applicazione che supporta questo prodotto appieno permette di configurarlo e soprattutto di andare a realizzare una serie di foto e video tramite il telefonino tramite il tablet e poi avremo la possibilità di condividere direttamente quanto realizzato sui social o addirittura di effettuare live stream con questa camera connessa al nostro smartphone o al nostro tablet. E infine non può che mancare l'universo degli accessori disponibili per questo prodotto che sono accessibili sempre dal link che troverete in descrizione e adesso state vedendo una panoramica dal sito c'è una buona offerta un buon un buon parco di accessori che rende questa camera utilizzabile in diversi ambiti. Spero questo video vi sia piaciuto e di essere riuscito a trasferirvi quanto più di positivo abbia riscontrato utilizzando questa camera. In questo breve lasso di tempo alla fine tre settimane però dove ho avuto modo di realizzare video giornalmente e quotidianamente che è quasi il mio sogno e inserire all'interno dei vlog il footage realizzato da questo da questa camera è stato veramente bello utile in alcune situazioni proprio con la musica ci stava perfettamente e quindi sono molto contento di averla provata e ringrazio nuovamente Geekmall per avermela imprestata come si dice in dialetto. Vi aspetto allora al prossimo video alla prossima esperienza alla prossima avventura e poi al confronto con la mitica GoPro e vedremo quale delle due davvero la vincerà la spunterà anche perché sono camere che hanno valori di mercato completamente diversi la GoPro costa il doppio rispetto alla iCam la vedremo la vedremo prossimamente vedremo davvero chi delle due vincerà. Ciao a tutti alla prossima Ciao a tutti